Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Singleplayer Oggi andremo nel mondo tutorial e parlo di tutorial, il primo tutorial da quando sono tornato e quando ho migliorato tutto quanto Anche se fa ancora schifo ma ragazzi sono dettagli, dettagli, troppi dettagli non vanno bene quindi cominciamo con tutto quanto Anche se non chiedetevi perché c'è tutta sta roba perché stavo collaudando e continuavo tutto quanto Ho fatto un po' capire Sapete no? Cose che succedono uccidere tutti la mod che si è pagato Ragazzi cose che succedono Ma cosa cose che succedono? Non dovrebbe succedere Ok ragazzi possiamo cominciare con il vero tutorial Parleremo di Solar Panel E guardate Il Solar Il Solar Panel Panner Vabbè Panner Settivano quando è giorno che sono gialli Sono due invece ne settivano Invece si attiva Perchè lo dico io e non vado Questo modo non è che serve a tante cose Giusto per quelli che non vogliono ritornare sopra quando sono in miniera Basta che torno alla stazione e guardare una lucetta che sta là In cui una lucetta è collegata solo al panel quello giallo L'altro giallo è collegato a quello blu Quindi quando è noto e giorno capisco e quindi sanno se salire e se ritagliere se o no Vabbè non è che serve tante cose questa volta Poi passiamo a quello dopo Questo faccio vedere alla fine Questo è un sistema di pistoli Perchèmente Passaglio fa al portare tutto quanto Hai drop Hai freccio Hai animale Hai animale Hai ma hai Perdo Hai animale Tutto quanto Ora Come metti qua Drop Qualcosa Che salteranno Le cose che è stato non di più Mi troppo mi pare Gli animali Guardate Ora metterò dei ioselotti Vediamo quanti saltano Non salto Non salto Non salto Non salto Se voi avete le maica Se voi avete le maica Se voi avete le maica Mi pare Che andi il test Non mi pare Maica Si A parte i mob Si fa Fanno volare Fanno volare fuori i mob Quelli che si Tutti i tempi E' cosa che di quello che lo faccio Ma Da 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 ma Per la rivoluzione A presto Mort Mort Tutto mori Tutto mori Tutto mori Tutto mori Tutto mori Tutto mori Ok Visto è morto Poi vabbè Si è serita la camposita Tutto mori Purtroppo 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 Non solo loro Volano Voliamo Anche i nomi E' passata Abbastanza Nato E' Tutto Comunque Questo mi stiamo a fargli tutto qua Diciamo Ma VGetere Game Monster Eh per per otto min che è del cavolo ok ragazzi ho riparato tutto quanto dopo quel creeper che mi ha distrutto tutto quanto e ho riparato pure il tempo più buona no? e ora voglio provare ad arci ok non credo che mi faccia danno perchè io le specie ma so non credo che mi faccia danno perchè io le specie ma che è pronto io faccio vedere questo sistema e non che consiste in un ruolo una parte intera il pistone che spinge via i mob davanti cazza morta raga non si sa perchè mai i zombie sono attacchi da quel cavolo e non lo portavo da qui raga lì non c'è nessuno mai è che e ragazzi dopo aver messo tutti i zombie mettiamoci in survival e e ecco a voi quanto vi so e ecco a voi ecco a voi ecco a voi Don't be super active get it one two 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 no 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 e e e raga stiamo i siamo su dragon boy raga quanti livelli saranno wow raga raga sto prendendo tantissimi livelli vabbè vabbè non guardate qui accanto ma perchè ho capito i livelli ragazzi è stato bello conoscerti ora per la rivoluzione è stato bello conoscerti anche io ok dopo questa cosa non ho senso forse dire che posso tornare qui ah raga comunque tornare al raga questa cosa l'ho fatta facciamo troppo 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 3 2 1 per la rivoluzione non ma quando giocare a team pong raga stavano usandome per la rivoluzione per la rivoluzione la bata per la rivoluzione per la rivoluzione per la rivoluzione leirete e e troppo come c ok facciamo un piccolo assunto del nostro video questo video parlerà di lì grazie ha parlato questa cosa lo farò in univide parlati come ti fai nella nostra casa con dei pistoni anche se i mobili sono molto numerosi come costruire dei dati la coppia dei mob da quelle varie e quelle minecraft come suicidarsi e isolare la famiglia e ragazzi per questo video direi che è tutto è la rivoluzione ci vediamo domani oh mio figlio sta cosa era molto iniziale oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio cose strane fanno pure i cambi di persone qua dentro ma questa storia è vera tantissime sorprese questa storia perché per questo abbiamo il proprio